non riesco a credere di essere fuori di essere qui insomma con te in italia eppure io vorrei solo che le circostanze fossero diverse capisci la vista è migliore da quella parte quindi tu sei già stato qui credo sia la terza volta ho sbrigato un paio di lavoretti capito non si può salire sul ponte beh c'è quella trave a vista in basso se agganciarla con la corda se so agganciarla con la corda guarda qua sto guardando io l'ho mancata beh sai è tutta una questione di posso fammi dare un'occhiata vista si niente male per un secondo tentativo ci sono a 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 Visto? Ah, sei un professionista Tocca a te Ok, ora dove andiamo? Abbiamoci di posto Sare in su di me, ho una buona presa D'accordo Ehi, potremmo aggrapparci a quella trave Eh, certo Ok, proviamo Al primo tentativo Nessuno ama gli esibizionisti Ok, forza Nathan Forse potresti calarti per raggiungerla Ci sono Ok Aspetta Per modo di dire Respira attraverso un tubo E forse non potrà più camminare Ah, bene lì sta Ehi, hai scommesso sulla partita Inghilterra vincente Inghilterra? Traditore Ehi, non confondere l'orgodio nazionale con la realtà Ok, via libera Santo cielo, l'hai visto? Quel mercenario era armato fino ai denti Dovevamo portare le pistole Sam, il filo era liscio Non ne avremo bisogno Spero che tu abbia ragione Ah, quanti anni sono passati Sono le piccole cose A mancare di più La nostra finestra Ci siamo quasi Potrebbe tenere Forza, scendi La terrazza è più tonorosa di quanto ricordarsi Sì, non dirlo a me Allora, che mi dici di quegli altri reperti? Quelli che mi sono perso Sei riuscito almeno a fotografarli? Magari Elena ne aveva filmati alcuni Ma la telecamera è andata Che peccato Ho dei disegni però Posso mostrarteli a ritorno Dei disegni? Gli hai appesi al frigorifero? No, ma sono bei disegni Ah, immagino Ah, immagino Ah, immagino Ah, immagino Ah, interessante Forse volevi dire Instabile No, guarda Tutto bene? Sì Sì, tutto bene Ah, immagino Sarebbe un casino se sbagliassi ora Questo è certo Ma io non sbaglio Sarebbe un casino se sbagliassi ora Nathan Nathan Cosa? Oh, giusto Ok Tutto bene? Sì Sì Come sto? Come 400 milioni di dollari Andiamo D'accordo Ti seguo Sally? Sai perché adoro le feste degli avanzi di galera? Sentiamo Nessuno si lamenta se fumi in casa Nessuno si lamenta se fumi in casa Quanto tempo Troppo, ragazzo Ricordi il mio defunto fratello, vero? Victor? Che mi venga un colpo Quindici anni Già È bello vederti vivo Cerchiamo di tenerlo in vita recuperando la croce Sì A proposito Cosa? Che è successo? Venite Vi mostro una cosa Guardate La croce di Avery L'hanno tirata fuori poco prima che arrivaste Hanno cambiato l'ordine dei lotti Serve un sacco di grana per fare una cosa simile Quanto manca prima che inizi la sta? Dieci, quindici minuti al massimo Ci sarà pure un modo per prenderla L'unico piccolo problema è quel centinaio di testimoni là sotto Ok, ok Ma basterà un diversivo? Tipo? Tipo, eh Tipo, non lo so Ma deve esserci un modo Se le guardie ci vedono vicino alla croce E se non ci vedessero? Ragionate come se non foste mai stati in prigione Se vuoi fare qualcosa di proibito Aspetti che spegnano le luci Già Dov'è il quadro elettrico generale? Aerazione Elettricità Eccolo qua su Basta arrampicarsi e tagliare la corrente E prendere la croce Ci sarà un generatore d'emergenza Questo ci lascia pochi secondi di buio in cui agire Dovremmo essere vicini alla croce quando saltano le luci È impossibile avvicinarci senza farci notare Scusati signori Antipasti? Oh no, grazie Ciao Come stai? Ciao Concentrati Un cameriere non si nota Potrà bandare Funzionerà Bene Allora io arrivo all'interruttore e taglio la corrente Faccio il cameriere? Sei il ladro migliore Tu scendi di sotto e tieni d'occhio la croce, ok? Se noti qualcosa di strano ci avvisi Ricevuto Bene Forza, possiamo farcela Pronti? Sempre Forza Seguitemi Passiamo dalla cantina Victory Tempo è stato clemente Grazie Forse è perché sono così Davvero un po' Ci hai creduto Ti amene no No, no Ho persino visto il girarsi di qua Cuello Com'è? Siamo di avere una buona patronata O quanto meno una provincia accettabile Qualche mese fa ero con una fidanzata al centro Dove avevo appena venuto dei pezzi Che avevo avuto un po' Tenuto da me solo Sì Una sfera Sospesa Una stronzata di armi a strada Comunque Superiamo quella gigantesca borsa di ghiaccio A proposito Che mi appena presenta E vediamo il carretto di un venditore di crepe Quindi mi avvicino con l'idea di fare colpostino E ordino una crepe a rosso Un crepe A vecchia su Sì, lo so Ora ce l'ho Lui fa un ceno d'assenso Poi ordina la mia ragazza Lei prende la sua crepe Sia lontana E poi le puoi portare Sia lontana Verso di me E dice La cantina è da questa parte Andiamo Oh, cari bosso Ci mancava lo schifo di tecno europea Mi dispiace Ci siamo Bene, andiamo Oh, cavolo, è chiusa Merda, prima era aperta E adesso? Scasseniamo? No, è elettronica Troviamo un'altra strada L'avete visto? Schede a tasca sinistra Faccio io Wow, 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 wow Ne sei sicuro? Ci sono un sacco di occhi qui È solo un borseggio Ce la faccio D'accordo Non fare casino Ma ci sto neanche provando Lo vedo Oh, merda Ti, uh, serve a qualche dritta? No, eh, riscaldamento Ok, ok Che ne dici? Fare come ai vecchi tempi, ok? Distratto, affondi il corpo Ci stai? Sì Bene Vai Accidenti Non posso andare Ma questo è un lavoro E dubitava di me? Adoro i professionisti in azione Ok Bene, eccoci qui Queste ci serviranno Ottimo Buona fortuna Ci aggiorniamo Mani in alto Ciao, Victor Ciao, Nadine Che piacere rivederti Questa volta Ti ho colto di sorpresa Allora sono lieto Non sia una pistola vera Non ti avrei riconosciuta Senza uniforme Già Sai com'è A volte per lavoro Devo tirare fuori Il mio lato femminile Ti vedo in forma Comunque Anche tu non sei male Qui mi sento fuori luogo Non sai che piacere Incontrare qualcuno Che parli la mia lingua Anche se tu sei americano Per questo Prenditela con i miei genitori Stavo andando al bar Ti prendo qualcosa? Sì, uno scotch Con ghiaccio Torno subito Nate Hai sentito tutto? Sì, furbetto C'è una ragazza Che ti fa la corte Già Nadine Ross Mi sta offrendo da bere Nadine Ross Sbaglio O ha un esercito di mercenari? La coastline Shoreline Sì Giusto C'era ruggine tra voi Chiamiamola ruggine Per fortuna non sembra portarmi alcun rancore Io qui sono pronto Ok Bene, noi ci siamo Sally Tu non cacciarti nei guai Ci proverò Ci sei? Sì Andiamo Dobbiamo scoprire dove fanno pausa cuochi e camerieri Potremmo tirarne fuori uno dalla cucina Allora cerchiamo la cucina Wow C'è abbastanza cibo da sfamare una città Merda Ci sono camerieri? No, solo altri scagnazzi armati Sera ragazzi Ehi Max Tocca a te Non consiglio Stavi pensando di pagare del vino? Sì C'è una piccaccia che ha avvenuto Ride out Chi vince? Sono pari Porca puttana Chi è puttana? Italia Eh, allora puttana male Ah, sì? Eh, l'Inghilterra è forte Ho puntato tutti loro Ah, non puoi fare la scommessa Una scommessa tu l'altro metto Ma che diavolo è? Questa porta non c'era sulla pianta Chiusa Ovviamente Ok, piano B Te l'ho detto, è chiusa Voglio verificarlo di persona E? È chiusa Esatto Condotti di ventilazione Nathan, vieni a vedere Ecco qua E luce fu Un bel impianto elettrico Non hai una torcia? Sì, può andare È sempre una buona idea Farsi accompagnare da un fumatore Pranne quando bisogna correre Accidenti I fumi dell'alcol cominciano a darmi alla testa Per fortuna guida Sally Piccolo cieco Forse l'accesso ai condotti è dietro alle botti Quel vino dannata deve valere parecchio Sì, forse Alcazara ha un debole per il buon vino Qualcosa mi dice che non ha nessuna intenzione di scappare Sì, forse Ehi, dovremmo preoccuparci che Victor sia chiacchierando con Dean Ross Ho sentito tutte storie Non preoccuparti, Varsalli Riesce sempre a cavarsela Riesce sempre a cavarsela Riesce sempre a cavarsela di qua Ben condotti, la nostra via d'uscita Ehi, ce la faccio Non ho bisogno del tuo aiuto Sto tenendo l'accendino Tieni l'accendino Tieni l'accendino Ok, saliamo Bene, ci siamo È più angusto di quanto sembri È molto più polveroso Shhh, maledizione Camerieri Il pelato sembra anche della mia taglia C'è carenza di camerieri qui Merda Da questa parte Ok Vai Ssshh, vai silenzio Deciderei Per portiere di merda Dove diavolo si procurano tutta questa roba? Sono pezzi rubati ai ricettatori Aria fresca, arriviamo Guarda qui Vedi l'edificio con la torre radio? Intendi il ripetitore? Che? Vabbè, è la sala del generatore Sì, hai ragione Troviamo un modo per superare il cancello Sam, qui Ti sollevo io Ok? Per fortuna sei ancora in forma Ecco Sully, siamo usciti dalle cantine Andiamo alla sala del generatore Com'è la situazione? Sully Ci sei? Forse è un problema di ricezione Sicuramente sta bene Bing Ecco la cucina E ovviamente è chiusa Sam, guarda Forse potremmo usarla per trovare una finestra E calarci nelle cucine Ottima idea Io ti sollevo Ok Ci sei? Occhio, occhio Buonasera Ma che sta facendo? Piano con i civili, Sam Capirai Ci sveglierai mutante col mal di testa A noi capitava spesso, no? Già Ok Io ho da fare E tu hai da fare Già Ok Verso la sala del generatore Sam, tutto ok? Sì A parte i pantaloni Troppo attillati Beh, sono la moda del momento Davvero? Beh, quando sei a Roma Perché siamo in Italia Lo capite Bene Sam, ci sei? Sam Sali Perfetto C'è Ah Eh Ah Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, siamo rimasti bloccati dentro per un mese. E il povero cavallo? Beh, a bordo avevamo un sacco di carote. Conosci qualcuno? No, pensavo di sì, ma no. Non mi hai mai presentato il tuo famoso socio, Drake? Il mio ex socio. Ormai ho un po' che lavoro solo. Drake non c'è più. Ah, vale a dire morto? Oh no, diciamo in pensione. Dicono che Righi Dritto si è sposato. Beh, allora è come se fosse morto, no? Victor Sullivan. Come diavolo stai? Raif? Quanto tempo è passato? Dieci anni? Dodici? Quindici. Fantastico. Dopo tutti questi anni ci azzuffiamo ancora sulle cianfrusaglie della gente morte. Ah sì? Pensavo gestissi l'azienda di famiglia. Ora è la mia azienda. Sì, quello è il lavoro ufficiale. Oh, un lavoretto niente male. Scommetto che potresti comprarti tutto il catalogo dell'asta. Beh, certo. Ma che gusto ci sarebbe? Ultimamente mi interessano solo i pezzi pregiati. La roba grossa. Su cosa dovrei puntare questa sera? Sì, come se avessi i suoi soldi. Ma... Detto tra noi, ho visto che hanno invertito i lotti. Ho paura che qualcuno voglia truccare l'asta. Beh, ricordati dove sei. Qui nessuno si è arricchito ricando dritto. Per questo hai bisogno di qualcuno che ti guardi le spalle in un posto così. Ah. Beh, mi spiace dovertelo dire, ma... Ora lavori per un americano. Con? Questa volta siamo soci. Capisco. Wow. Una coppia esplosiva. Tra poco metteremo all'asta il nostro prossimo articolo. Un crucifisso di legno intersiato della collezione Trotto. Beh, non farò il terzo incomodo. Divertitevi voi due, eh? Aspetta un po', Sally. Come l'hai scoperta? Cosa? Cosa avrei scoperto, Rafe? Nadine, forse il tuo socio ha esagerato con i Bloody Men. Basta, stronzate, no! Non so come tu sia riuscito a entrare. Ma se solo pensi di partecipare all'asta della Croce di Avery, sappi che ne uscirai in una cassata morto. Beh, ci siamo capiti. È stato un piacere. Nate. Nate. Dannazione, ragazzo, dove diavolo sei? Ok, il generatore. Posso farcela? Diavolo, perché ho scelto il generatore? Ok. Dannazione, ragazzo, 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 ragazzo. Sì, non ci pagano abbastanza. Se dobbiamo fare anche gli elettrici... Ecco fatto. Speriamo di non dover cambiare altri possibili del cazzo stasera. Direi che per stasera può bastare. Ma che diavolo? Pronto? Ci siamo. Ora, dove diavolo sono gli interruttori? Merda. Sam, Sully, ci siete? Dannazione, ragazzo, dove eri finito? Ce l'ho fatta. Con qualche contrattempo, ma... Se vuoi tagliare la corrente dovresti farlo ora. Ok, ma mi servirà un minuto per arrivare al pannello. Non abbiamo un minuto, Rafe. Sta per andarsene con la vostra croce. Rafe è qui. E al momento la sua offerta è quella più alta. Beh, tu rilancia. Con cosa? Non me la posso permettere. Sully, la stiamo rubando. Ricordi? E se capisce che un blef... Non succederà. Siamo a 90.000. Qualcuno offre di più? Ragazzi, se non prendiamo la croce sono un uomo morto. Sì. Ma se faccio l'offerta più alta moriremo tutti. Sully, ho bisogno di un po' di tempo. Fidati di me. 90 e 1. 90 e... Ah, al diavolo. Bene. Abbiamo un'offerta da 100.000 euro. Grazie. Nessuno vuole rilanciare? Abbiamo un'offerta da 110.000. Fatto 30, faccio 31. Questa offerta... Tranquillo. Tra un attimo sarai salvo. Me lo auguro. Ok, devo solo rompere il lucchetto. Ma con che cosa? Abbiamo un'offerta di 130.000. Siamo ora a 140.000. No. No. Il signore laggiù porta l'offerta a 150.000 euro. Niente. Non c'è. Nuova offerta. Siamo a 160.000 euro. Deve esserci qualcosa. Non c'è. Con l'offerta del signore siamo a 160.000 euro. Si. Un secondo. Adesso abbiamo un'offerta di 180.000 euro. Si. Altra offerta alla cifra di 190.000 euro. Sì. 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 Bene, sono all'interruttore. Pronti? Sono nato pronto. Victor? Un secondo. Il signore ci offre 210.000 euro. 500.000. Vediamo di farla finita. Ehm... Grazie. Bene, l'offerta di 180.000 euro. L'offerta attuale è 500.000 euro. Il signore desidera rilanciare? Mi stavo quasi preoccupando, Victor. Volevi che ti uccidessi? Ok. Roviniamo la serata questo stronzo. Nessun altro? 501. 502. Dichiaro il lotto venduto per 500.000 euro. Signore e signori, mantenete la calma. Il generatore d'emergenza si attiverà a momenti. È sparita! Sbarrate tutte le uscite! Scusate per lasciare la mia... Fattene! Le fate di mezzo! Fermatelo! Ehi! Fermate quell'uomo! Fermo! Che state facendo? Così lo fate scappare! Mi capite? Sparisci. D'accordo. Non c'è stato ric pai mai, sempre, sempre. Gli